Meta ha appena rilasciato delle novità molto interessanti sul tema intelligenza artificiale generativa e oggi le vediamo insieme. Seguitemi. Meta ha rilasciato Lama 3, la nuova versione della sua famiglia di modelli di linguaggio di grandi dimensioni. In particolare sono stati rilasciati due modelli 8B e 70B rispettivamente con 8 miliardi di parametri e 70 miliardi di parametri, entrambi rilasciate con licenza open source. Pensate che sono stati addestrati su dataset sette volte più ampi rispetto al precedente Lama 2 e addirittura su testi equivalenti a 15 trilioni di token. Secondo i benchmark pubblicati dalla stessa azienda, questi modelli sono a livello di GPT 3.5, paragonabili anche a Gemini 1.5 Pro e Cloud 3 Sonnet, non a GPT 4, ma il modello più potente della famiglia Lama 3 da 400 miliardi di parametri arriverà nei prossimi mesi. Ma dove si possono utilizzare? Beh, innanzitutto essendo modelli rilasciati in modalità open source sono anche scaricabili per poter essere installati sui propri pc, sulle proprie macchine. Inoltre la grande novità è che Meta ha messo per la prima volta a disposizione un sito dal quale testare questi strumenti, Meta.ai. Questa è l'interfaccia di Meta.ai, come vedete è molto simile alle altre che abbiamo visto nel corso di questi video. L'unica particolarità è che per accedere attualmente dall'Italia bisogna utilizzare una VPN perché al momento questo sito è raggiungibile soltanto da alcuni paesi come gli Stati Uniti, il Canada e tanti altri, ma non in Europa e in particolare dall'Italia. Quindi muniti di una VPN si può iniziare a scrivere l'istruzione che si vuole. Proviamo a metterlo alla prova con qualche test di scrittura. Per esempio gli dico raccontami una barzelletta sui data scientist e traducila in italiano. La velocità del sistema è davvero impressionante nonostante siamo con una VPN. Qui ci dà la versione di questa barzelletta in italiano. Perché il data scientist ha lasciato la sua ragazza perché si è reso conto di star cercando di ottimizzare la sua vita amorosa, come fanno i data scientist, e lei era un valore anomalo. Insomma, non malaccio. Gli ho chiesto di tradurre in italiano perché altrimenti tipicamente il sistema comprende l'italiano ma dà risposte soltanto in inglese. Altra cosa un po' più creativa, tipo immagino un tweet scritto da Dante nel momento in cui scopre l'intelligenza artificiale generativa. E lui ci dice sono appena disceso nel nono cerchio dell'inferno dell'AI e ho trovato un demone che può forgiare versi con la mia stessa mano. Intelligenza generativa tu sei un prodigio e un terrore. Quanto tempo prima che tu superi il grande poeta stesso con gli hashtag via intelligenza generativa Dante. E mi dice anche spero che questo riesca a catturare il mix dantesco di paura e trepidazione. Mettiamolo alla prova su delle tematiche di marketing e gli dico agisci come esperto di facebook ads e dimmi quali sono i migliori interessi da usare per targettizzare il prodotto gen plus, un integratore alimentare per i ragazzi della generazione z italiani. Quindi lui mi consiglia una serie di cose di interessi nell'ambito health and fitness, wellness, lifestyle e interessi, food and beverage, technology and gaming, education, demographics, anche behavioral targeting come online behavior, health and wellness research, fitness enthusiast, gamers, purchase behavior, supplement buyers, health food shoppers. Mi dice prova a combinare questi interessi con le demografie specifiche e con i comportamenti in modo da creare gli ad set giusti. Diciamo forse un po' ampio come set di interessi ma comunque mi sembrano tutti in target. Ancora gli faccio fare un test di analisi del sentiment quindi gli ho dato 10 opinioni rispetto a un prodotto e ho chiesto di catalogarmele per sentiment e il sistema mi ha tirato fuori questa tabella con il sentiment per ognuno e il topic di interesse. Quindi per esempio il gen plus fa schifo ovviamente negativo, topic prodotto, l'operatrice non mi ha aiutato a risolvere il mio problema, negativo customer care oppure malgrado il contributo minimo a livello di nutrienti questo integratore mi ha sorpreso perché ho notato benefici sia a livello fisico sia mentale positivo prodotto. Poi vediamo l'app di gen plus è da migliorare, negativo user experience, non riesco a capire la data di scadenza, neutrale user experience, qui poteva anche essere insomma negativo, niente di che lo classifica come neutrale nell'ambito del prodotto, insomma non malaccio come prova anche se ci dice, tiene a ricordarci che comunque sto migliorando la possibilità di acquisire comandi non in inglese quindi ci possono essere degli errori, comunque non male. Mettiamolo alla prova su test di logica e di matematica un po' più complessi che altri magari non hanno saputo correttamente risolvere, per esempio ho 100 libri nella mia stanza, ne leggo 10 quanti libri sono rimasti nella mia stanza, qui molti cadono come abbiamo visto in vari video precedenti e infatti cade anche lama 3 perché mi dice che è un'operazione matematica semplice ma in realtà è sbagliata perché fa una differenza tra 100 e 10 e mi dà 90 ma in realtà i libri sono ovviamente rimasti sempre 100. Vediamo con un altro test, scrivi una frase grammaticalmente corretta in cui ogni parola inizia con la lettera finale della precedente anche in inglese, tiger eats rice eagerly every day, no sbagliato perché qui tiger eats non inizia con la R anche qui è sbagliato, insomma sono quasi tutte sbagliate, quindi no questo test non lo supera assolutamente. L'altra cosa che si può fare all'interno di questo sito meta.it è generare delle immagini utilizzando il modello di diffusione proprietario di meta che si chiama emu. L'avevo già messo alla prova in un precedente video su questa piattaforma, sul mio canale di youtube e oggi vediamo se hanno fatto dei passi in avanti. Quindi clicchiamo su imagine in alto a sinistra e poi iniziamo a scrivere imagine e vedete che immediatamente compare quello che stiamo per scrivere. All'improvviso è apparso, ora è scomparso. Vedete? A bird in a park. Flying. Vedete che cambia in tempo reale l'immagine at night with tail on fire. Vedete che cambia l'immagine over New York City. Questo è davvero straordinario, questa capacità di generare l'immagine al volo. A questo punto posso anche dare l'invio per ottenere altre immagini. Sono un totale di quattro immagini generate sulla base del mio prompt. A volte la lentezza può essere dovuta all'uso della VPN. Andiamo a vederle. Poi c'è questa qui, non è malaccio, qui sopra una sorta di central park. Poi c'è quest'altra. Poi c'è questa. Peccato che non si possono scorrere con i tasti. Poi c'è questa qui, insomma. Vabbè, prendiamone una, per esempio questa qui. Quello che si può fare è rigenerarla, editarla, però in questo caso cambierà di molto l'immagine o animarla. Vi faccio vedere l'animazione. In questo caso andremo a ottenere un video in cui l'immagine viene animata, che ovviamente è un video che si può scaricare in formato MP4. Assomiglia un po' più a una GIF che a un video vero e proprio, perché è molto a scatti, però non è malaccio. Invece se provassi a tornare indietro, a fare edit e volessi aggiungere, non lo so, Cosa potremmo aggiungere qui? Another bird flying. Il sistema non andrà a editare effettivamente l'immagine, cioè ad aggiungere o togliere degli elementi, ma rifarà di fatto il prompt su cui noi non abbiamo altro molto controllo e aggiungere un altro uccello a quello che già mi aveva dato prima. Quindi avremo diversi uccelli sempre con questa coda in fiamme, quindi non è un vero e proprio edit. Facciamo qualche altra prova per capire un po' la qualità delle immagini. Ecco, un'altra cosa che si può fare è si può ottenere un video dalle immagini che io ho generato nel momento in cui stavo scrivendo il prompt in tempo reale, come abbiamo visto prima. Quindi il sistema ha memorizzato tutte le immagini che sono apparse mentre io scrivevo e mi dà la possibilità di ottenere un video da utilizzare, da scaricare. E questo mi sembra anche un bel modo di mostrare, vedete, come funziona lo strumento e la sua capacità appunto di generare immagini in tempo reale. Ogni immagine avrà comunque poi un watermark di meta che segnala il fatto che è stata generata con l'intelligenza artificiale e con i sistemi meta. Qui si può scaricare il video e si può utilizzare sui social media, anche questo in MP4. Facciamo qualche altra prova di generazione delle immagini. Imagine a woman fashion photography. Voglio testare un po' il realismo di queste immagini ma non mi sembrano molto realistiche. Documentary è una keyword che di solito funziona bene per restituire un po' di realismo all'immagine. Insomma, realistic, hyper-realism. Questa forse è abbastanza realistica ma mi sembra che non siamo ai livelli di software come Midjourney per esempio. Vabbè, questo è un prompt un po' sbagliato, fa vedere tutto l'impianto della fotografia di studio. Tra l'altro questa macchina fotografica è assurda e non esiste, non ha senso. Questo è un po' più realistico ma insomma è comunque disegnato. Questa qui la modella ha degli artefatti pazzeschi sul volto, non ci siamo come generazione di immagini. Anche questa ha degli artefatti bruttissimi sul volto. Insomma, il modello EMU per la generazione delle immagini lascia un po' a desiderare. Insomma, c'è tanto lavoro sicuramente da fare in futuro. Una cosa strana che mi è capitata durante le prove è che provando a scrivere Fascist Soldier in Italy è spuntata l'immagine di una donna di colore vestita da soldato in Italia. Ovviamente siamo ancora in situazione simile a quella in cui si è trovata Google, che è stata molto criticata qualche mese fa, di bias di questi sistemi o bilanciamento dei bias che poi rischia di portare a delle immagini innaturali, non realistiche, addirittura antistoriche. In conclusione, Lama 3 probabilmente è il migliore modello open source attualmente disponibile, ma ancora non compete con i modelli commerciali, in particolare con GPT-4. Per questo bisognerà aspettare la nuova versione, il modello più grande in termini di parametri, che dovrebbe arrivare entro qualche mese. Ma la cosa interessante è che Meta estenderà il suo modello Lama a miliardi di persone, proprio gli oltre 3 miliardi di persone che già utilizzano i suoi strumenti, i suoi social media, i suoi software sociali come Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger. Infatti è già iniziato il test in alcuni paesi del bot Meta AI, che sarà disponibile su questi social, su queste applicazioni. In particolare il bot sarà utilizzabile in vari modi. Diventerà la barra di ricerca nei social di Zuckerberg, quindi quando scriveremo una keyword per fare una ricerca, quella informazione verrà presa in carico dal bot di Meta, e quindi dal sistema sottostante, quindi Lama 3, per poter darci le risposte. Si spera siano risposte migliori di quelle attuali. Inoltre il bot si potrà anche richiamare all'interno di conversazioni dentro Messenger o Whatsapp, conversazioni con gli amici, per esempio abbiamo bisogno di informazione, evochiamo il Meta AI bot e gli facciamo una domanda, oppure gli facciamo generare un'immagine perché ci può servire per uno scherzo appunto tra amici o altre cose. Infine il bot comparirà anche sotto alcuni post del nostro feed di Facebook o di Instagram in futuro. comparirà sotto forma di Ask Meta, cioè un pulsantino che ci permetterà di fare delle domande riferite al post che stiamo guardando e insieme ad Ask Meta compariranno altri tag, altre domande di follow up, altre domande per approfondire l'argomento di cui parla quel post. Bene, fai pure le tue prove con Meta.ai e poi usa i commenti per farmi sapere come è andata. Nel frattempo se ti va di rimanere sempre aggiornato su questi temi ti consiglio la mia newsletter che trovi linkata in descrizione, i miei corsi di formazione e ovviamente di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti mai nessun video sull'intelligenza artificiale generativa. Alla prossima!